Ciao dall'Italia, ciao dall'Italia, ciao da casa UIV, la casa di chi ama la lingua italiana, la casa di chi vuole vivere in italiano, la casa di chi ha a cuore la sorte del pronome e personale, complemento indiretto, le. Io adesso voglio ringraziare subito tutte le amiche, tutti gli amici della casa di UIV, ma davvero tutti. Oggi ci diamo del lei, ci diamo del lei però useremo sempre il nome, dovremmo usare il cognome, però usiamo il nome. Daniel la ringrazio, la ringrazio molto, la ringrazio, ringrazio la, ringrazio lei, ringrazio lei Daniel, non a lei, ringrazio chi? Lei, complemento diretto, la ringrazio Silvia, ringrazio anche lei, la ringrazio, la ringrazio molto e le chiedo, le chiedo, chiedo a lei, Silvia, le chiedo di darmi del lei, le chiedo di darmi del lei. Saluto anche Sagna, buonasera, buonasera Sagna, come sta? Spero che stia bene e le ricordo, le ricordo, ricordo a chi, a lei, le ricordo che ci diamo del lei questa sera, va bene? Perché non abbiamo mai mangiato la pasta asciutta insieme. Io dico sempre che la forma di cortesia non è un modo di dimostrare rispetto nei confronti delle persone, è un modo per mantenere le distanze, manteniamo le distanze, diamoci del lei. No, sto scherzando, nel caso di Sagna sto scherzando, Sagna, signora Sagna, sto scherzando, non voglio farla arrabbiare, non voglio farla arrabbiare. Chi? Lei. Laurent, buonasera, le dà fastidio se ci diamo del lei questa sera? Le dà fastidio? Dà fastidio a chi? A lei? E Laurent dice, ma sono qui, stai parlando con me e sono un uomo soprattutto. No, le, le dà fastidio a lei? Ci diamo del lei? Forma di cortesia, io la chiamerei forma di allontanamento, non di cortesia. Armani, purtroppo sono impegnato al lavoro, dovrò sfruttare la differita, divertitevi. Ma Armani, ma scusi eh? Scusi, forma di cortesia, non scusa, ma scusi Armani, le chiedo di restare con noi, chiedo a chi? A lei. Le chiedo di restare con noi, perché è proprio lei, Armani, il protagonista di questa diretta. Armani, nella diretta di ieri, aveva scritto un messaggio, io ho chiesto ad Armani di scrivere un commento per ricordarmi il messaggio interessante che aveva scritto in diretta, perché non volevo perderlo. E il messaggio è questo, ma Armani non c'è. Il messaggio è questo. Roberto, mi hai chiesto di ricordarti di questo argomento. Le, nella forma di cortesia, sopravviverà o sarà sostituito con gli, perché nella diretta di ieri io avevo segnalato il fatto che sempre più parlanti italiani, non nella forma di cortesia, per riferirsi a una terza persona femminile, usano gli e non le. Ho visto Paola e gli ho dato il mio libro. Io dico che gli errori non esistono, questo è ancora considerato a tutti gli effetti un errore. Però sempre più parlanti usano gli al posto di le e si sa come va a finire, si sa. Armani chiede, ma succederà la stessa cosa anche per la forma di cortesia? Quindi si dirà gli chiedo, mi scusi eh signore, gli chiedo? Io direi no, ma Armani introduce un tema che porta con sé un altro grande tema. Il tema dei pronomi personali, complemento indiretto, pronomi personali indiretti, è il tema della forma di cortesia e anche la forma di cortesia sta subendo un'evoluzione, una metamorfosi. È una delle domande ricorrenti qua nella casa, nella grande casa di UIV, quando bisogna usare la forma di cortesia, quando, come, dove, perché e non c'è una risposta. Parleremo anche di questo stasera. Rick, buonasera, mi scusi, mi scusi se glielo chiedo. In questo pronome combinato, glielo, non c'è il le. Qua c'è glielo, la prima parte gli è una forma di cortesia. Le lo chiedo non c'è, per forza glielo chiedo. Questo gli è una terza persona, forma di cortesia, che però è gli perché glielo non prevede la presenza del le. Solo in questo caso, scusi se glielo chiedo, Rick, io non la conosco. Piacere, a meno che lei non sia un amico o un'amica di vecchia data che ha usato per stasera un altro profilo. In ogni caso io la saluto, le do il benvenuto, do il benvenuto a chi? A lei, caro signor Rick, e le auguro, le auguro, auguro a lei buon divertimento. E Armani chiede, ma tra un po' diremo, gli do il benvenuto? Gli auguro? Mamma mia, mamma mia. Penso e spero di no. Chi ha difficoltà a usare i pronomi con tutta probabilità, a usare i pronomi nel modo giusto per come dicono le grammatiche del tempo, con tutta probabilità avrà difficoltà a usare anche la forma di cortesia. Qualcuno usa il ci, ci do il benvenuto, però questo no, ci do il benvenuto, con tutta probabilità avrà difficoltà a usare la forma di cortesia e tenterà prima o poi di passare al tu. Ma adesso parliamo della domanda, della domanda di Armani. Cosa chiede? Sopravviverà o sarà sostituita con gli? Secondo me sopravviverà fino a quando, e non so per quanto tempo ancora, fino a quando sopravviverà la forma di cortesia. Negli ultimi mesi, nel corso di trattative commerciali, ho incontrato molte persone che non conoscevo. Ho incontrato molti professionisti. ho notato, con mio grande stupore, che alcuni di questi professionisti, presto, molto presto, sono passati al tu. Hanno cominciato a darmi del tu. E questa per me è stata una grande sorpresa. Non me l'aspettavo. Penso che vent'anni fa non sarebbe stato possibile, mai nella vita, non sarebbe mai stato possibile in un rapporto di lavoro, un rapporto commerciale, darsi del tu. Magari può succedere in un negozio, in un negozio di moda. Se l'ambiente è giovanile, in un ambiente giovanile, anche se si tratta di un'interazione, un incontro commerciale, può succedere. Ma in questi incontri che ho fatto io, per niente giovanili, almeno io non sono un ragazzo. Poi, tra l'altro, è interessante, hanno cominciato a darmi del tu persone più giovani di me. Sarebbe stato più normale il contrario. La persona più grande, sì, si dice più grande, più grande come? Di altezza? No, in questo caso più grande d'età. A volte non è così automatico recuperare questo aggettivo molto comune per riferirsi all'età grande. È non così sorprendente che la persona più grande, più grande d'età, a un certo punto si prenda la libertà di dare del tu alla persona più giovane. Perché dà del tu? Perché è più giovane? Perché è una libertà che si prende così come l'adulto dà del tu a un bambino. E anche quando si è ragazzi, dare del tu significa dire che vabbè, sei giovane, sei ancora giovane, posso darti del tu. Boh, io non sono d'accordo su questa cosa. Se un bambino mi dà del lei, anch'io do del lei al bambino. In automatico. Con mio grande stupore io ho visto questi professionisti dai quali io andavo perché erano dei professionisti che potevano vendermi il prodotto che io cercavo, mi davano del tu. Non subito. Oppure a volte mi davano del tu, poi ritornavano a lei, poi mi davano del tu. Quindi il caos più totale. Mi davano del tu in un contesto non particolarmente confidenziale, anzi per nulla confidenziale. Probabilmente costava fatica, costava fatica in lei. Io per tantissimi anni ho lavorato in un ufficio nel quale incontravo persone sconosciute. Offrivo consulenze in questo ufficio e mai nella vita avrei pensato di dare del tu a una persona, anche giovane. Quindi c'è una metamorfosi anche in questa forma di cortesia. Allora, che cosa durerà di più? Il le, gli le o la forma di cortesia? In toto. Ringrazio tutti voi, dovrei dire ringrazio tutti loro. Terza persona, plurale, forma di cortesia. No, non si usa. A proposito di cortesia, non è stato cortese tenere il cappello durante la diretta? Non lo faccio mai. Oggi volevo farlo, così. Anche perché i capelli non erano presentabili. Non sono mai presentabili, ma oggi peggio delle altre volte, per cui in maniera molto poco cortese ho tenuto un cappello che fa molto lucio dalla. Un caro saluto. Ciao, ciao, ciao. Buonasera. Grazie.